Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questo nuovo video guida in cui vi spiegherò come poter ottenere l'accompagnatore, un fucile a pompa esotico che si potrà appunto ottenere tramite un'impresa esotica. Questa impresa, la Holiday Meccanica, vi verrà data direttamente da Amanda Holiday, la tizia delle navi, e l'unico requisito per poter ottenere questa impresa sarà essere almeno al grado 3 con il crogiolo. Una volta ottenuta il primo step ci richiederà di effettuare delle uccisioni, di aumentare la nostra fama utilizzando l'ultima parola nel crogiolo. E questo qui probabilmente è il punto più controverso, anche perché il gioco ci mette del suo. Se guardate in game ci sarà una percentuale per il completamento, se invece guardate sull'app ci sarà scritto da 0.1500 richiesto, che non si sa cosa voglia dire o perlomeno io avendo guardato soltanto in game la percentuale non so fisicamente quanto aumenta da 0.1500. Per esperienza però posso dirvi che, utilizzando l'ultima parola, una kill vale l'1%, una kill con l'headshot vale 2%, una morte vale meno 1%, una serie di uccisioni vale il più 5%. Facendo vari test, controllando dopo ogni uccisione, dopo ogni serie, questi sono i valori che ho ottenuto. Però appunto guardando l'impresa direttamente in gioco il conteggio ogni tanto salta qualche percentuale o va un pochino a cazzo, probabilmente perché è una conversione in percentuale appunto di quello che sull'app sarebbe in numero. E in ogni caso fidatevi di quello che vi ho detto, una kill 1%, una kill in headshot 2%, serie 5%, ogni morte meno 1%, fate così e andate sul sicuro. Una volta completato questo primo step dovrete tornare ad Amanda, che vi chiederà di effettuare una generosa donazione, quindi andate alla Cryptarka e dovete pagare 15.000 lumen. Ebbene sì, 15.000. Una volta pagati, anche questo step sarà completato e dovrete nuovamente tornare ad Amanda, che vi chiederà di effettuare delle uccisioni, questa volta sia in PvP che in PvE, con il fucile a pompa. In PvE dovrete ammazzare dei maggiori, in PvP i classici guardiani. Morendo non perdete nessuna percentuale. Onestamente vi consiglio di farlo nel PvP dove una trentina di uccisioni bastano per completare tutto il 100%, mentre nel PvE tre maggiori valgono sia in un 1%, quindi capite anche voi che alla fin fine è più veloce farlo nel PvP. Una volta completato anche questo step dovremo tornare ad Amanda, che ci darà l'ultimo compito, ossia uccidere due fratelli scudo nel relativo assalto utilizzando dei fucili a pompa. E fate attenzione, non sarà l'assalto di base da dover completare, se voi andate a vedere nel menu destinazioni del lastro corazzata ci sarà una nuova icona a fianco a quello base, che avrà luce consigliata 290 e avrà tra i bonus specialista. Importantissimo ragazzi, se siete con amici, cosa straconsigliata, non importa chi ucciderà i due boss, l'importante è che vengano uccisi con un fucile a pompa e che voi abbiate fatto l'assist e quindi che voi li abbiate almeno colpiti. Una volta completato anche quest'ultimo step non vi resta che tornare ad Amanda ed aspettare il reset del martedì successivo perché vi venga consegnata l'arma, quindi abbiate un po' di pazienza e vi assicuro che ne sarà valsa la pena. Ho fatto qualche partitella con l'accompagnatore e devo dire che è molto divertente, unica nel suo genere come arma, senza dubbio. E state tranquilli che presto o tardi vi porterò pure una review. Quindi ragazzi per quanto riguarda queste imprese esotiche è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non lo aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici affassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti!